Questa settimana a Vesper parliamo della situazione politica a Menfi che naturalmente è uno dei comuni che si prepara per la prossima scadenza elettorale in programma il 10 giugno. Cinque anni sono già trascorsi dal ritorno di Enzo Lotà alla guida amministrativa del Comune di Menfi, un ritorno dopo la prima fase, quella iniziata nel 1994, poi c'è fu l'interruzione, poi il tentativo è andato a vuoto nel 2008 nella battaglia con Michele Botta. Le cose sono cambiate ma adesso c'è questo nuovo appuntamento elettorale. Come si sta preparando Menfi in vista di questo appuntamento elettorale? Ne parleremo con i nostri ospiti e vi devo anche dire che in 30 anni che faccio questo lavoro non avevo mai faticato così tanto per riuscire a comporre un parterre di ospiti che commentassero, protagonisti della politica, che commentassero la situazione politica del Comune di Menfi in questo caso. Naturalmente ringrazio quelli che hanno accolto il mio invito, ve li presento tutti, comincio con un collega che è Filippo Cardinale, direttore del giornale online Corriere di Sciacca.it, accanto a lui il presidente del Consiglio Comunale di Menfi, Vito Clemente, presidente uscente naturalmente del Consiglio Comunale di Menfi, e poi l'assessore Giuseppe Romano, assessore al bilancio dell'Aggiunta Lotà, grazie anche a lui per aver accolto il nostro invito, così come ringrazio Gaspare Bonfiglio che in questa sede rappresenta il Movimento 5 Stelle, un'attività civica molto diciamo rinomata quella di Gaspare Bonfiglio prima di giungere a questa collocazione. Vi dicevo prima dei problemi che abbiamo avuto, perché in realtà a questa trasmissione oggi mancano altri protagonisti, tra cui gli appartenenti ad un raggruppamento politico che si chiama Siamo Menfi, dove la A è maiuscola con un significato naturalmente duplice. Io ho provato ad invitare qualcuno di questo raggruppamento, ebbene tutti si sono accordati nel declinare il nostro invito. Mi hanno spiegato con un messaggio WhatsApp che ritengono prematuro partecipare ad un dibattito, io prendo atto di questa loro decisione, naturalmente la rispetto, resta il fatto che un dibattito non è mai prematuro, soprattutto se noi dobbiamo affrontare anche una retrospettiva di quello che è successo negli ultimi cinque anni, al di là di quello che succederà di qui al 16 maggio, che è la data in cui si presenteranno le candidature in vista delle elezioni del 10 giugno. Resta pacifico che quello che viene fuori è un po' una sorta di partita a scacchi, dove ciascun raggruppamento aspetta la mossa dell'altro. Parleremo anche di questo. Vorrei cominciare con una riflessione da parte dell'assessore Romano. Questi cinque anni come si concludono per quanto vi riguarda, al di là del bilancio squisitamente politico? Lo chiedo a lei non a caso, anche quello diciamo così tecnico-economico. Che comune è quello di Menfi? In salute? Il comune di Menfi ha un bilancio in salute sotto l'aspetto di natura finanziaria. Ma oltre del bilancio prettamente numerico degli aspetti finanziari dello stesso, è il bilancio di cinque anni dell'amministrare per la città, proponendo e mettendo mano agli aspetti più essenziali che la cittadinanza chiedevano e che rispettavano in pieno il programma elettorale del candidato sindaco, poi sindaco, in solità, che era quella sulla gestione dei servizi, sulla riorganizzazione per quanto riguardavano i rifiuti, il servizio idrico, per quanto riguardavano la tenuta della città, la tenuta dei conti del comune stesso, alcune attività di programmazione che andavano dal piano regolatore generale, che andavano al piano delle spiagge, che andavano alla messa a regime di tutta una serie di iniziative che avevano bisogno di mettere mano e di incidere in maniera determinante. Noi ci presentiamo in maniera serena, tranquilla, moderatamente soddisfatti, perché si può fare sempre di più, anche in considerazione, delle difficoltà economiche in cui versano tutti gli enti locali, lei sicuramente e il suo collega sa che nella regione siciliana ci sono stati più di 25 comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario e altri 42 sono in pre-dissesto finanziario, questo per avere contezza di cosa parliamo oggi e di quale difficoltà si ha nell'amministrare un ente locale. Lei sta dicendo che malgrado questo siete riusciti a fare delle scelte politiche? Certo che siamo riusciti a fare delle scelte politiche. Perché oggi come oggi con l'emergenza è difficile fare scelte politiche. Certo che facciamo le scelte politiche e le facciamo di fondo, mettendo assieme chi ha cultura dell'amministrare, chi ha cultura nel gestire i servizi e cercando quando più possibile di raggiungere i obiettivi che magari il comune limitrofi, non voglio dire altro ma penso a Castelvetrano, un comune grossissimo dove si vede i rifiuti depositati lungo le strade, noi abbiamo trovato un comune in cui la raccolta differenziata era al 35%, l'ultimo trimestrale del 2018 porta una raccolta differenziata al 68%, le faccio un esempio banale, se a questo lei pensi l'aggravio dei costi che ci sono stati per la chiusura delle discariche di Salinella, per l'impianto di compostaggio con maggior onere di trasporto dei rifiuti financo a Catania, oltre al costo del conferimento di scarica superiore, pensi gli sforzi che abbiamo dovuto fare non chiedendo un centesimo di Euro in più ai nostri concittadini. In questi cinque anni noi non abbiamo inaspito le imposte, le tasse e quanti cittadini contribuiscono per aver espletato determinati servizi di un centesimo di Euro. Ecco, le chiedo adesso un commento politico, perché ne parleremo, me è stato il primo comune che sul piano Aro ha fatto una scelta piuttosto significativa, però sul piano politico lei dice abbiamo fatto molto e però di questo raggruppamento che adesso sta studiando diciamo così come contraltare della maggioranza uscente, fanno parte anche diversi consiglieri che hanno vinto le elezioni con voi e che nel frattempo hanno cambiato parte del campo. A me dispiace. Ecco, rispetto a questo qual è la sua riflessione? Questi consiglieri non hanno colto i passi avanti che lei dice sono stati raggiunti? No, le dicevo proprio questa, a me dispiace che non siano presenti quei consiglieri o qualche consigliere che ha effettuato questo tipo di scelta, perché non mi è nota la motivazione di ordine politico che possa aver fatto pensare di non valutare bene l'operato dell'amministrazione, quindi la mancanza di qualche consigliere che ha fatto questo tipo di scelta, indubbiamente in questa seduta e quest'oggi era l'opportunità di chiarire il perché e le motivazioni che si erano fatte, perché guardi si misura tutto su un programma, ciò che è scritto su un programma, se c'è qualche cosa che non si è raggiunto come obiettivo ed era scritto nel programma elettorale presentato dal sindaco Lontà, allora ci può essere una critica, una critica cosciuttiva, cercando anche di modulare l'andamento dell'attività amministrativa nel corso di quel singolo punto del programma, ma perché mi costa se mai sollevato questo, se non l'esolita dialettica che ci può essere… Quella che è il mancato coinvolgimento, si dice sempre così, la fermo un attimo qua. Presidente Clemente, dal suo osservatorio, questi cinque anni che ci stiamo lasciando dietro le spalle, come si sono caratterizzati? Ma io devo dire una cosa, nella mia prima dichiarazione di appena eletto presidente del Consiglio, io avevo un augurio, l'ho fatto tutti noi, avevo anche un auspicio, che era quello che il clima politico si ripostasse al dibattito proprio politico di ordine amministrativo sui fatti e sulla programmazione. E sono stato io per primo nel ruolo delicato di presidente del Consiglio Comunale Superpartes, intanto a dare l'esempio e a far sì che questo clima venisse riportato alla giusta e normale dialettica politica. Io credo che, da questo punto di vista, ne usciamo tutti bene. Intendo dire tutti i 20 consiglieri comunali, ma anche il rapporto con l'amministrazione e la giunta, sì, ci sono ovviamente le contrapposizioni politiche che fanno parte dei ruoli che ognuno riveste, è chiaro, però in un clima, diciamo, sereno che, devo dire, negli anni precedenti da tempo non si respirava. Quindi personalmente, essendo stato questo l'agurio che mi sono posto da presidente del Consiglio Comunale, io credo di essere riuscito nell'impresa di riportare i toni della politica a dei toni quantomeno di normale dialettica, a dei toni assolutamente civili. Qual è la sua opinione sul fatto che c'è una componente della vita pubblica di Menfi politicamente importante che, per esempio, oggi ritiene di non partecipare a questo nostro dibattito? Ma guardi, io posso capire, lei mi pare che l'ha detto nella sua introduzione, che ci sia anche tatticismo, che sia anche prematuro per alcuni confrontarsi con gli avversari. Certo, questo diventa quasi un monologo. Noi siamo abituati a confrontarci. No, c'è Bonfiglie che farà in modo che non lo sa. No, certo, con gli avversari, assolutamente. C'è anche il Movimento 5 Stelle, intendevo dire. Certo. È un dibattito monco, chiamiamolo così. Noi siamo abituati a confrontarci con gli avversari e siamo anche pronti a confrontarci. Qualcuno maligna, dice, qualcuno può dire, non è che forse non sono ancora sicuri che saranno avversari e forse ve li ritroverete di nuovo compagni di strada. Beh, le vie della politica sono infinite. Tutto è possibile. I dialoghi possono anche, come dire, rimanere aperti a 360 gradi perché io sono convinto che chi deve fare politica deve avere come obiettivo primario quello che è lo spirito di servizio nei confronti della città, nei confronti dei cittadini. Che possono essere frasi fatte, ma in realtà poi nei fatti ci sono operatori politici che operano in questa maniera. Io, per esempio, non nego che da sempre mi trovo in affinità di linguaggio e dialettica anche con il Movimento 5 Stelle. Qua c'è Gasper Bonfiglio, con il quale tantissime battaglie abbiamo comunemente portato avanti nell'interesse dei cittadini perché ritenute battaglie importanti. Quindi io personalmente sono convinto che il dibattito politico accresce la cultura dialettica ma accresce anche un confronto che possa essere costruttivo e che fa sì, diceva bene l'assessore Romano, di poter dare i giusti chiaramente alla città di vari passaggi di ordine politico che a volte diventano incomprensibili. Metterci la faccia è senso di maturità. Dire le motivazioni per cui uno si trova da una parte piuttosto che da un'altra io credo che sia un senso assolutamente di maturità. Ma credo che ci sarà modo e maniera nelle prossime settimane di poter capire e di poter eventualmente confrontarsi. Un'ultima cosa per questo primo giro, non voglio esagerare con la dietrologia, però lei dice io quando ho cominciato a fare il Presidente del Consiglio Comunale il mio obiettivo era quello di riportare un po' la pacificazione politica più che sociale. Questo cosa significa? Che prima evidentemente c'era stato qualche problema? Qualcuno per esempio sostiene che una delle ragioni per cui botta non si sia ricandidato è stata la rottura del rapporto con lei. Lei come replica su questo? E veda, monologici qua non le vogliamo fare, anzi, dobbiamo solleticare. Guardi, io la ringrazio per questa domanda e mi piacerebbe praticamente che sia anche la controparte a dire se sto dicendo il vero o meno. Le posso assicurare che se Michele Botta si fosse candidato io anche in un'eventuale possibilità di sconfitta mi sarei candidato nella lista con Michele Botta. E su questo ero con lui fino all'ultimo giorno. Aggiungo che quando lui ha deciso di non ricandidarsi per scelte assolutamente che io rispetto, che ho sempre rispettato lei sa benissimo i rapporti di affetto e di amicizia che mi hanno sempre legato e che certamente non rinnego. Il rapporto ci possono essere anche nel corso del tempo tra due amici anche dell'incomprensione o degli equivoci. Ma l'affetto assolutamente non muta. Personalmente non è mai mutato. Io le posso solo dire questo, che quando lui ha deciso di non ricandidarsi ci siamo guardati intorno con gli amici che avevamo ancora con noi e abbiamo incontrato i due candidati a sindaci che erano Saverio Ardizzone dal lato e Vincenzo Lota dall'altro. Non potevamo incontrare il candidato sindaco Argiroffi perché come tutti sanno il Movimento 5 Stelle non fa alleanze. Quindi abbiamo incontrato sia Saverio Ardizzone nello studio del dottore Botta e l'abbiamo incontrato per primo rispetto ad Enzo Lota e praticamente lo stesso dottore Botta lo stesso Michele Botta, sindaco sciente aveva delle perplessità dell'andare a fare un accordo con Saverio Ardizzone. Abbiamo, ho chiamato io personalmente Franco Santacroce che era un consigliere comunale con i quali mi legano rapporti di grande stima ed affetto e abbiamo avuto quest'incontro a casa proprio di Franco Santacroce. Eravamo sette persone. Con Lota. Eravamo sette persone. C'era Lota, Franco Santacroce, c'era Lota, Franco Santacroce e colui il quale gestiva la campagna elettorale di Lota che era Dino Chiruzzi e poi eravamo io, gli assessori uscenti Nino Di Carlo e Enzo Anastasi e il sindaco sciente Michele Botta. Noi abbiamo chiuso l'accordo con Enzo Lota Quindi lei sta dicendo che non ha ancora capito come il dottore Romano non ha capito perché alcuni se ne sono andati e lei non ha capito perché No, aggiungo e che ne devo dare atto che nella lista Progetto Menfi alleata con Enzo Lota Michele Botta ha dato il suo contributo in termini elettorali e in termini di ricerca di candidati da mettere in lista. Ma è stato accusato di tradimento lei? No, assolutamente. A me non risulta questo A me non risulta perché ripeto le scelte le abbiamo fatte insieme. Allora, Gaspari Bonfiglio possiamo già cominciare a fare un po' voi siete fuori dal Consiglio Comunale lei personalmente non il Movimento 5 Stelle ci mancherebbe possiamo già cominciare a fare un po' una sintesi di quello che sta succedendo a Menfi e le chiedo proprio per l'appunto è una partita scacchi quella che ci sta portando verso la scadenza del 10 giugno? Intanto mi permetta di fare una premessa io rappresento il Movimento 5 Stelle di Menfi ma nella qualità di attivista del Movimento 5 Stelle perché non sono portavoce del Movimento 5 Stelle perché normalmente da noi il portavoce è colui quale ha una rappresentanza nell'istituzione e l'attuale consigliere comunale manca da Menfi ormai da alcuni mesi per motivi di lavoro e quindi di fatto non c'è un portavoce del Movimento 5 Stelle io quando ho ricevuto la telefonata d'invito per questa discussione ho prima detto sì e poi successivamente mi sono chiesto quasi ma io che centro proprio perché non sono portavoce del Movimento 5 Stelle e neanche sarò coinvolto in prima persona nelle prossime elezioni però come ha detto lei e come hanno detto i presenti provare a discutere a dialogare e a confrontarsi io credo che sia sempre comunque positivo chiaramente questo quindi proverò anche a fare dei ragionamenti non solo da Movimento 5 Stelle ma anche da cittadino di Menfi che è un ruolo che mi piace anche di più rispetto a quello all'attivista del Movimento 5 Stelle e le dice è una partita a scacchi io pur non essendo ripeto coinvolto direttamente cerco di seguire naturalmente di informarmi senza troppo entusiasmo devo dire su quello che sta succedendo a Menfi e in effetti noto tante strategie tanti tatticisme e tante necessità di vedere e di capire ognuno nell'avversario che cosa si muove quali sono i nomi che vanno avanti che potrebbero esserci e quindi in effetti possiamo possiamo discutere solo di quello che potrebbe essere diciamo lo scenario in prossima età del 16 maggio con la scadenza e con la presentazione quindi materialmente delle liste noi dal nostro punto di vista diciamo rispetto a questa serie di incontri di coalizioni di tentative di all'ultimo momento diciamo siamo un po' diversi rispetto a tutti gli altri sicuramente non perché riteniamo di essere migliori ma qualcosa di diverso sicuramente sì e questo sicuramente si evidenzierà anche con le prossime candidature io penso che a me alla fine non ci sarà nessun simbolo di partito tranne il nostro ci saranno presumo delle liste civiche quindi noi come ha detto poco fa è anche la legge quello che porterà a questa soluzione porterà alla soluzione di un'unica lista con un unico candidato però lei dice senza simboli di partito presumo per gli altri miniature nella miniatura per gli altri però di fatto la legge voi avete il maggioritario uno vince uno perde esattamente però il simbolo alla fine sarà penso solo quello nostro e in ogni caso noi per statuto non facciamo alleanze con altre quindi andremo per la nostra parte abbiamo deciso di cimentarci in questa campagna elettorale quindi avremo una nostra lista un nostro candidato a sindaco già i futuri candidati si sono attivati hanno iniziato a fare ragionamento sul programma e devo dire questo ci dà anche la possibilità di avere un po' c'è in più rispetto a quella che io dico la liturgia delle coalizioni degli incontri dei gruppi che cercano di unirsi di unirsi a un gruppo oppure all'altro gruppo cosa che è successo quella che lei chiama liturgia però è quella che poi permette di accumulare i consensi permette di accumulare i consensi però a volte permette di accumulare i consensi ma difficoltà l'indomani dopo che si è vinto purtroppo è così però ciascuno noi siccome abbiamo il nostro simbolo abbiamo la nostra lista avremo i nostri candidati c'è un malcontento a Menfi c'è un malcontento da parte voi siete vi identificano come antisistema anche se ormai Di Maio ci sta insegnando che conosce benissimo il meccanismo della politica però insomma voi avete puntato sempre su un malcontento storicamente al Movimento 5 Stelle al di là della moderazione dei suoi toni c'è un malcontento per il quale voi pensate di poter ottenere un risultato io penso che il malcontento ci sia io posso capire perfettamente le difficoltà che ha oggi un amministratore rispetto ad alcuni anni fa difficoltà dal punto di vista economico con lo Stato e la Regione che diminuisce sempre di più il finanziamento e quindi la necessità di inventarsi qualcosa qualcosa di diverso però vede a me è sempre piaciuto l'esperienza a cui faceva accenno lei di Menvi Vive dal 2012 in poi mi ha portato a come dire spesso e volentieri a cercare di organizzare delle iniziative degli eventi con costi a me piace dire prossimo allo zero vi spiego meglio noi a Menvi abbiamo fatto la scorsa campagna elettorale che ha portato abbiamo avuto un successo enorme abbiamo avuto il 60% oltre 60% delle politiche delle politiche parlo 60% dei consensi secondo in tutta la provincia con pochi impegni di spesa nel senso che abbiamo raccolto 5 euro ciascuno per il minimo indispensabile dei volantini che abbiamo ritenuto opportuno fare qualche bando veramente poco questo che cosa voglio dire che a volte se non ci sono i soldi facili se non ci sono i finanziamenti da parte di un amministratore interviene quello che il mio amico compiando Enzo Buscemi diceva l'intervento del buon padre di famiglia cioè se abbiamo poco cerchiamo di non fare mancare l'indispensabile in questo caso alla nostra comunità con quel poco che abbiamo quindi a volte è importante avere anche secondo me con tutto il rispetto naturalmente per il presente la credibilità di organizzare determinate iniziative con pochi soldi è chiaro che io ci tengo su questo una battuta al volo e poi passo la parola al collega cardinale voi siete consapevoli che il risultato delle politiche è una cosa che non si potrà ripetere alle amministrative assolutamente sì io ho detto e ho ripetuto più volte ecco però questo fa venire fuori un po' la sensazione che poi sì sono elezioni diverse le amministrative e questo poi vorrò coinvolgere anche gli altri sono elezioni diverse le amministrative dalle altre però alla fine c'è il voto d'opinione si manifesta per esempio alle politiche e poi nell'amministrativa c'è il voto del fratello del cugino del parente questo è un po' non è necessariamente una cosa negativa però sicuramente caratterizza in maniera diversa gli appuntamenti elettorali perché se uno magari volesse votare col cuore magari voterebbe in un'altra maniera sì questo in fondo è quello che è sempre successo con le elezioni amministrative c'è stata sempre una differenza tra io dico intanto tra le europee le nazionale e le regionale fino al comunale sempre a cascata sempre con maggiore difficoltà è chiaro che le amministrative sono totalmente sono totalmente diverse anche se devo dire la nuova legge elettorale che come diceva lei ci ha equiperato ai comuni una volta di 10.000 abitanti quindi con il maggioritario ha portato anche a un candidato a sindaco e una lista non come una volta che c'era un candidato a sindaco e 3-4 liste queste 3-4 liste naturalmente avevano la possibilità di drenare molto più consenso in funzione dell'amico del parente quindi un elemento bisognerà adeguarsi anche alla novità della legge esattamente vediamo Filippo una tua considerazione su quello che succede io mi verrebbe da dire nulla di nuovo sotto questo cielo perché di fatto come si dice la situazione di Menfi è quella che si può anche ricostruire qui a Sciacca o a Ribera o ad Agrigento ti devo smentire perché mi pare di vivere in una sacristia riconducendo il pensiero a Sciacca dove fra le parti politiche c'è una lotta a Canita qui dagli interventi degli illustri ospiti mi pare di leggere una pagina del libro Cuore non ci sono stati attacchi a parte i due componenti che comunque gravitano in maggioranza ma neanche da parte dell'esponente del Movimento 5 Stelle quindi è come se vivessero una realtà felice cosa che dalle parti nostre a Sciacca è impensabile l'assenza di chi doveva essere al posto mio non supprisco nessuno quindi dal punto di vista politico non è politicamente elegante perché non avrebbero dovuto parlare delle soluzioni per risolvere il conflitto in Siria quindi sono argomenti cittadini e al di là comunque della impostazione dell'impalcatura del gruppo politico o delle strategie politiche da adottare parlare delle esigenze del proprio paese è un argomento abbastanza facile quindi che non richiede necessariamente la l'eventuale si è andata in ama scoperta a dire come la pensano sui problemi del paese di Menti sì ma qui nessuno sta parlando di strategie quindi dico ogni chi opera in politica ho cercato di farlo capire non ci sono riuscito la volta in me naturalmente il dovere quantomeno di essere presente e parlare delle proprie esigenze poi sarà un candidato ne sarà un altro sarà un candidato consigliere sarà un altro comunque è un fatto secondario rispetto al bene collettivo ogni discorso mi sembra mi sembra prematuro perché c'è una variabile che non è stata considerata che è quella del 4 marzo le ultime elezioni sono politiche ma sono state questa elezione un segnale chiarissimo cioè se è franata la diga o meglio si è interrotto si è spezzato quel concetto che frenava ancora la faceva la diga e quindi frenava ancora la rabbia dell'elettore rabbia che non necessariamente deve provenire dalle politiche prettamente locale perché questo è un tipo di rabbia che include tanti anni di disattese parliamoci chiaro per cui al di là mi piace pure che il messaggio che arriva da Roma arriva pure a Menfi anche se è piccolino quindi per esempio chi non si presenta perché ha ancora strategie da elaborare è l'esponente del Movimento 5 Stelle che comunque si sta adeguando a Di Maio perché per statuto o meglio non statuto così lo chiama Grillo di alleanze non se ne parla però se tutto sommato ci sono dei suggerimenti e ci sono delle proposte al posto dell'alleanza comunque ora va di modo il contratto quindi mi pare che siano anche predisposte a comprendere un po' quale siano le anche se comunque ha precisato che si presentano con la loro lista ma loro si presentano con la loro lista e necessariamente io mi sbaglierò perché non sono un politologo il fatto numerico oggi dopo il 4 marzo nel sud e in particolar modo in Sicilia è difficile fare calcoli viene meno perché c'è un elemento di sorpresa che va oltre il ponderabile quindi da soli o con contratti o con alleanze sai è un argomento che è relativo e Menfi devo dire Massimo dobbiamo anche sfatare questo discorso di Sciacca è vicino a Menfi ognuno vede nella vigna del vicino sempre più carico d'Uva e sono realtà completamente diverse perché sono realtà limitrofi che partono da un livello rispetto a Sciacca per la sua vocazione degli anni 50 degli anni 60 scelta di Lotà dell'amministrazione di Menfi di puntare sulla gestione dei rifiuti con una gestione diretta e non nessuna maggioranza viene pubblicamente a criticare se stessa e non c'è dubbio che hanno puntato sui servizi ma anche lì per esempio se parli con un sacenzo dobbiamo fare un paragone con sacenze il sacenze paga molto di più assieme agli altri 27 comuni perché altri 16 hanno deciso di cedere le reti parlo dell'acqua non l'ho interrotta non desidero essere interrotto perché dico poi faccio riferimento alla corte costituzionale eccetera eccetera quindi dico viene facile anche la battuta gestire un paese con molto meno abitanti rispetto a Sciacca è molto più facile però un'amministrazione non necessariamente quella di me punta solo sulla organizzazione sull'efficienza dei servizi dei rifiuti anche sui rifiuti è più facile fare differenziata a Menfe a Burgio a Caltabelotta che a Sciacca o invece dico ci sono altri argomenti che non vengono affrontati che possono essere molto dispessore più dispessore mi viene in mente non l'ho seguita quindi mostro probabilmente dirò una bestialità chiedo scusa in anticipo sono anche disponibile ad essere crocifisso ad esempio è arrivato a un certo punto e questo fece invidia a noi di Sciacca e Menfe doveva partorire un porto importante che avrebbe messo in difficoltà Sciacca che è privo di un porto turistico importante quella sarebbe stata una svolta importante al di là della percentuale differenziata della tariffa dell'acqua inferiore rispetto a Sciacca della normale amministrazione quindi non vedo non intravedo quelle novità importanti capaci di dare una ulteriore che tra l'altro è interessante la sollecitazione Assessore Romano il porto turistico di Menfe quando nacque il progetto le vacche erano ancora abbastanza nutrite parlo delle risorse finanziarie anche se ci si affidò ad un privato per realizzare poi che cosa è successo perché questo progetto è molto dico in due parole molto semplici e poi una riflessione su quello intanto l'idea della nascita del porto turistico di Menfe era dell'amministrazione votata di cui io all'epoca facevo anche parte noi abbiamo redatto il piano del porto c'era un bando regionale siamo stati uno dei pochi comuni della Sicilia costieri era un project finanziario noi abbiamo avuto un decreto di 9 milioni di euro che era un'attività di bancamento perché c'era un problema dell'insabbiamento noi avevamo proposto un ripompaggio delle sabbie che erano all'interno del porto per un'attività di ripascimento dell'erosione delle coste che c'era a Fiori era un progetto molto complesso e avevamo avuto un contributo da parte della regione siciliana che abbiamo messo a bando l'amministrazione successiva l'ha messo a bando e c'è stato l'attività di un soggetto che ha presentato un progetto di finanza raddoppiando l'investimento da 9 a 18 milioni costituendo una società mista a pubblico privato chiamata Marina di Menfi in cui il comune era uno dei soci questo attutela anche dell'interesse della comunità su questo tipo di investimento e la lungimiranza in cui si intravedeva in questa iniziativa a seguito di non so se prima o dopo perché in quella fase non sono stato amministratore del comune di Menfi non so se prima o dopo c'è stata una disavventura da parte del socio privato che aveva proposto il progetto di natura finanziaria quando ci siamo inseriti e noi abbiamo trovato questa situazione questa era la fotografia fino a quando la società questa ditta romana mi ricordo che poi è uscita di scena no? si ritirata siamo stati noi a farla uscita di scena esatto perché le commesse pubbliche hanno una doppia funzione spesso per alcuni imprenditori fra virgolette di poter eventualmente assicurarsi la provvedenza esterna o finanziamenti di terze per altre attività non per l'attività specifica noi abbiamo trovato questa foto che le ho raccontato quando ci siamo inseriti la prima cosa che dovevamo fare qual era? vedere le motivazioni perché il porto non si poteva più realizzare essendoci un contraente che con il comune aveva stipulato un contratto e non aveva rispettato l'impegno di realizzare quel progetto presentato abbiamo verificato siamo andati a vedere come so il dire abbiamo visto che era tutto un blef e noi abbiamo dovuto essenzialmente sciogliere la società marina di Menvi la responsabilità in danno del socio privato provvedere a ristaurare un contenzioso sull'escussione della polizia fede e russore che altri volevano svincolare in altre epoche e che grazie alla presenza di alcuni si è continuato a mantenere a responsabilità dell'impegno assunto nei confronti della pubblica amministrazione queste sono le fasi che si sono conclusi dal che si riparte con l'idea progetto recuperando le somme e i 9 milioni di euro che sono disponibili per un progetto a misura senza andare oltre oppure quindi è ancora viva questa operazione è ancora viva sarà un'attività di rilancio che verrà fatta sicuramente perché queste sono le fasi essenziali per poter liberarci del socio privato e poter rimettere a bando il progetto un progetto preliminare rimodulato in funzione delle risorse avute senza voli pindarici mi ricordo che si parlò del rischio che queste risorse tornassero indietro erano delle risorse che sono state riaccertate da parte della regione e sul resto delle considerazioni del collega cosa è? io mi permetto di dire che amministrare è difficile perfino casa propria quindi non è questione di comunicare volevo aggiungere Massimo se mi consenti che senza nessuna polemica perché riconosco all'otà assolutamente delle caratteristiche che sono di rilievo però ho fatto questa osservazione perché a mio avviso i tempi sono cambiati rispetto al primo lotà arrivavano trasferimenti c'era un parco progetti che era importante lo invidiavamo tutti quindi anche merito dell'ufficio tecnico dei dirigenti e dei funzionari però se dovesse fare un paragone fra il lotà di prima e l'otà di quest'ultimo periodo allora vedo il lotà di prima in fuga con uno sprint importante mentre la seconda fase quest'ultimo sindacatura dico è un po' invecchiato non ho visto è un po' invecchiato tutti invecchiamo sono passati non ho visto proprio quello strancio se non in alcuni settori di amministrazione che poi entra nel senso del buon padre di famiglia facciamo rispondere a Clemente anche se ha avuto un ruolo speculare ma diverso tornerò tra un po' da lei su questa un lotà più sottotono rispetto alla prima volta in cui fece il sindaco ma guardi io ero in un ruolo diverso lei era opposizione io ero opposizione all'epoca io posso dire una cosa anche all'opposizione perché sono stato all'opposizione per dieci anni anche all'opposizione mi confrontavo su temi su tematiche su idee di sviluppo sul quale praticamente si poteva anche aggiustare indirizzare dare la propria opinione in funzione di migliorare e questo certamente era anche uno stimolo in più per ognuno di noi per me che ero un giovane che aveva la passione della politica e quindi ero uno stimolo in più adesso sono in un ruolo assolutamente diverso un ruolo super partes ma comprendo anche le difficoltà che ci sono da un punto di vista amministrativo lei poco fa ha detto anche un padre di famiglia oggi ha difficoltà a gestire la propria famiglia esattamente se un padre di famiglia ha difficoltà a gestire la propria famiglia di quattro componenti figuriamoci un sindaco che deve anche essere la mediazione per cercare di dare sviluppo di dare anche soluzioni alle normali alle giornaliere problematiche che riguardano appunto le famiglie lei insiste nel dire che ha un ruolo super partes però vediamoci io faccio parte sì ma io sono stato detto anche questa domanda anche questa certo finirà esattamente lunedì finirà esattamente lunedì anche questa domanda mi dà occasione di fare anche una precisazione io sono stato eletto e sono in maggioranza e sono stato abituato ad assumere degli impegni dal primo all'ultimo giorno della questo lo fa onore sicuramente nessuno mi può dire il contrario sia nei dieci anni che di però si parla per esempio di lei come nuovo candidato nel caso in cui l'Otà a quest'ora ci arriviamo io mi premeva soprattutto fare una precisazione in funzione delle cose dette poco fa che riguardano Michele Botte perché è una cosa che io volevo chiudere in maniera definitiva sia adesso che in funzione anche della campagna elettorale e che mi preme mi preme sottolineare soprattutto una cosa lei mi ha fatto una domanda io non ho fatto assolutamente polemica ho raccontato la mia versione dei fatti ma comunque essendoci personalmente rapporti sentimenti forti non entrerò in nessun tipo di polemica che riguarda la persona e la figura di Michele Botte e quindi per me è una discussione chiusa e se ci sono terzi che siano giornalisti o che siano anche avversari che vogliono alimentare questa proposta una polemica che non c'è una polemica che non c'è e che non può esistere io faccio giornalista non faccio lo psicologo ma mi pare che lei stia lanciando un calumè della pace ma non è questione di calumè della pace perché ho capito che i rapporti sono stati mostri noi non abbiamo mai litigato noi non abbiamo mai litigato però qualcosa che è successo ci deve essere Massimo in sintesi da quello che dice il presidente quella di Michele è una botta di vita basta no io c'è però lei ci tiene a recuperare questo rapporto i rapporti personali non ci prescindono i rapporti politici il discorso è questo io tengo a precisare che se qualcuno chiunque esso sia se qualcuno avesse pensato che io lei mi ha fatto una domanda il giorno dopo l'insediamento e mi ha detto Menzio è famosa perché il presidente del consiglio litiga dopo sei mesi un anno con il sindaco e io le ho detto questo per me non accadrà io ho rispettato gli impegni se qualcuno amico mio o mio elettore si aspettava che accadesse ciò che era accaduto in passato le posso assicurare che non sarebbe accaduto che non le avevo assicurato che non sarebbe accaduto e così è stato io ho mantenuto i miei impegni non solo nei confronti del rapporto con l'alleanza con Enzio Lotà ma con gli elettori a cui ho chiesto il voto da candidato al consiglio comunale in una lista parentata a Enzio Lotà quindi per quanto mi riguarda questa è una polemica con cui non posso chiudere un po' il maligno quando lei dice io ho rispettato gli impegni cosa vorrebbe aggiungere adesso mi aspetto che altri rispettino gli impegni con me e guardi questo lei ha fatto una domanda io non ho difficoltà ci arriviamo a quella cosa se lei può essere candidato allora io le posso dire questo è chiaro che chi fa politica ha l'ambizione di fare il primo il candidato sindaco e se il popolo risponde anche fare il sindaco non nego che è una mia ambizione non nego che ho dato la mia disponibilità ma io sono uomo squadra come le ho appena detto ed essendo uomo squadra se la squadra decide che ci possono essere candidati migliori io non ho alcuna difficoltà ad avere lo stesso entusiasmo per la battaglia elettorale un passo di lato per la battaglia elettorale sia da sia da candidato sindaco che da che a fare come dice lei un passo assolutamente di lato non ho alcuna difficoltà buon figlio come commenta quello che sta venendo fuori anche interessante trovo che sia molto interessante chiaramente riguardo all'otà prima o dopo anch'io posso dire qualcosa in effetti tutti abbiamo il ricordo di 24 anni fa credo 24 sì con la prima sindacatura c'erano naturalmente altre remesse da parte della regione dello Stato ma io ricordo ricordo che si diceva si favoreggiava che avesse trovato le casse piene delle vecchie amministrazioni a tiratura democristiana che non riuscivano a organizzarsi per poter spendere i soldi che c'erano e quindi che si erano accumulati e quindi che l'otà aveva trovato una sorta di tesoretto io non credo che la storia sia questa ma quando anche fosse stata questa non credo che quello che poi è successo sia un demerito dell'otà sinceramente anche se gli altri non spendevano e lui invece sì assolutamente sì infatti tutti anche i presenti compreso i giornalisti riconosciamo a l'otà la capacità di spesa e quant'altro in questi ultimi cinque anni io da cittadino quello che ho sentito spesso molto spesso era di un lotà irriconoscibile un irriconoscibile senza entusiasmo senza entusiasmo esattamente senza entusiasmo irriconoscibile e nonostante dopo i primi due anni credo continuasse ad essere funzionario dirigente della regione siciliana e quindi impegnato ma non a pieno a pieno titolo a fare il sindaco di Menve anche quando è andato in pensione e c'erano tantissime aspettative che ci potesse essere una sua maggiore presenza un maggiore slancio tutta questa presenza questo slancio questa questa capacità di vedere a cosa è stato dovuto questo secondo questo francamente non io lo so dire per me è per certi versi inspiegabile conoscendo Enzo Lotà non molto dal punto di vista diretto ma attraverso anche gli organi l'informazione non ha molto perché è vero le difficoltà che ci sono nell'amministrare una città però è pur vero che nella città non si è percepita tutta questa capacità di questa amministrazione uscente rispetto alla gestione della cosa della cosa pubblica io rispetto intervento precedente si è parlato del rifiuto o come dire sono andato sono tornato indietro di cinque anni forse lei si ricorderà anche quando in prossima metà della campagna elettorale credo sia stato il 20 aprile del 2013 abbiamo organizzato a Memphi io personalmente sono stato tra gli organizzatori un bellissimo incontro con una persona sicuramente si ricorderanno Ezio Orses assessore di Ponte delle Alpe una delle città con la più alta raccolta differenziata in Italia che ci ha portato il nostro obiettivo era quello di capire come funzionava la raccolta differenziata altrove e io mi ricordo l'abbiamo organizzato bene l'abbiamo fatto degli speciali e quant'altro e mi piace pensare che se poi dopo alcuni mesi la nuova amministrazione lo dà ha scelto proprio Ezio Orses e la la sua società per iniziare un discorso che poi non so esattamente in che cosa concretamente è sfociato ma credo che l'approvazione mi auguro lunedì prossimo della società è stato il frutto del confronto il risultato positivo che poi si è raggiunto sul rifiuto esattamente mi piace pensare che magari abbiamo dato questo contributo ma giustamente come diceva il dottore Cardenale i servizi possono essere qualcosa sì importante ma limitato la gestione del servizio idrico di cui qua abbiamo fatto ampie battaglie può essere limitato ma quello che mi aspetto ecco da parte di tutti gli operatori politici locale di Menve per le prossime elezioni amministrative compreso il mio candidato a sindaco e la mia lista è provare a intraprendere e individuare un'idea di sviluppo del territorio che possa effettivamente portare qualcosa molto concreto a Menve e io l'idea la lancio e ce l'ho e mi piacerebbe che si potesse discutere di questi tipi di fatti concrete per esempio sappiamo a Menve che il turismo rappresenta si è investito negli ultimi vent'anni si è investito molto si è investito molto nella difesa del territorio e anche noi ieri come associazione civica Menve vive abbiamo fatto tanto per difendere il territorio da mega ingeneratori che altri volevano mega impianti fotovoltaico che altri volevano per contribuire a un'idea di turismo a Menve un'idea come dire delle piccole strutture che secondo me sono quelle che portano veramente l'indotto in una comunità e allora io mi chiedo una cosa piuttosto che parlare di di teatticismi e di liturgie dicevamo poco fa perché non si prova a ragionare su quale può essere la possibilità di sviluppo turistico del territorio però in maniera concreta noi siamo benfi dicono che il PNRG va modificato perché bisogna permettere ai piccoli appezzamenti di terreno di poter realizzare delle piccole strutture su questo mi pare che questo è un'idea non so se corrisponde ma loro hanno avuto Massimo e in questo ci hanno anticipato proprio per l'assurdità di paletti e vincoli paesaggistici ma questo non vuol dire edificare assolutamente e ci hanno anticipato perché loro hanno impugnato il piano paesistico che portava dei limiti che erano grandissimi il primo ricorso al TAR in provincia da Grigento fu fatto poi noi siamo andati a ruota anche grazie a Roccoforte però volevo aggiungere in più cosa poi nella sostanza non vorrei essere equivocato perché siete tutti bravi e Menfi e Sciacca c'è una grande differenza che sta in una persona o in un concetto o in una cultura Menfi deve moltissimo a un imprenditore illuminato perché pur non facendo politica o magari qualche voce negli ultimi giorni tramite la figlia ha saputo prendere il paese in mano e dare una guida l'esempio è con la cantina Sette Sole che ha guidato i viticoltori ha fatto formazione non è stata una cooperativa semplice gestita nel modo in cui le cose vengono gestite in Sicilia non dimenticherei che attorno a Sette Sole sono nate tante cantine tante cantine tante realtà ma le varie amministrazioni sicuramente avranno ricevuto ecco quei suggerimenti che viene da una persona così qualificata quindi c'è anche questa grande capacità di persone di un certo io sul fatto che non faccia politica ho molti dubbi che fare politica non significa essere candidati sì ma fare politica nell'interesse della fare politica nell'interesse della collettività tracciare degli orizzonti dei solchi delle linee e poi anche controllare se quella nave segue la rotta giusta la prua è messa in posizione ideale oppure no da noi invece una realtà imprenditoriale non c'è è abbastanza lontana dalla politica da noi le cooperative sono morte Sette Soli è un esempio che sicuramente non è riuscito a fare da noi parlo di Sciacca non è riuscito a fare scuola qui anzi le esperienze cooperativistiche qui sono morte per tanti problemi non c'è dubbio che Menfi riceve proprio questo questo lì c'è stata un'amministrazione illuminata questa formazione questa cultura che purtroppo noi non abbiamo e da loro dobbiamo anche imparare Allora Romano mi fa fare una prestazione sul piano regolatore generale volevo solo ricordare che la variante al piano regolatore generale cui Consiglio Comunale ha discusso recentemente è stata votata con un unico voto contrario la maggioranza l'ha e la minoranza l'ha votato anche praticamente nella sua quasi totalità solo per precisare Allora non ci sono tutte queste divisioni questo vuol dire Allora Romano partiamo intanto da PRG perché mentre io lo dicevo lei ha fatto un po' scuoteva la testa Sì perché ci si dimentica tanto delle cose che sono diventate normali e che poi sembra che l'amministrazione lotà perché non voglio di parlare singolarmente di lotà sindaco non abbia avuto il quid in più nel fare lei mi sa dire quanti comuni hanno il piano regolatore approvato che poi è stato fermo per due amministrazioni consecutive e quale altro sindaco ha rimesso mano a una rivisitazione del piano regolatore generale apportando all'approvazione dello schema di massima e ora dello schema definitivo questa per sciacca è una dolente nota il quid in più che nell'immaginario passa questa idea che viene fuori lo dà più di basso profilo non è un più di basso profilo è più di una ragione che 24 anni fa non c'era l'identità del territorio del comune di Menzi e che avendo dato identità al comune di Menzi l'identità si migliora con la qualità dei servizi dando quanto più opportunità possibili alla cittadinanza volgendo lo sguardo per chi versa il stato di disagio cosa che abbiamo fatto noi con l'asilonilo comunale con i progetti out con l'accompagnamento alla comunicazione c'è un tempo per la gestione garibaldina e uno per la gestione più saggia si può dire così c'è un tempo per tutte le cose il dato del turismo se andiamo a guardare gli incrementi turistici che ci sono stati negli ultimi cinque anni nella città di Menzi per le cose che diceva Bonviglio per l'approccio culturale che la comunità di Menzi ha verso la gestione del turismo e dello sviluppo il piano regolatore generale da noi lo schema di Massima contiene un'idea rivoluzionaria che non so quanti altri comuni sono in condizione di farlo che il consumo del suolo misurato in funzione dei servizi che uno può erogare non bisogna pensare a uno sfruttamento del territorio in maniera assoluta edificando aiosa o a vanvera se poi non sei in condizione di dare l'acqua alle strutture turistiche o se non sei in condizione di raccogliere i rifiuti che producono giornalmente il concetto va visto e letto in una cultura dell'amministrare che deve essere patrimonio dell'intera comunità ma l'OTA si ricandida? ma questo non lo so saranno scelte di lotare quelle che vorrà fare certo ci manca la sua non è un'abbedicazione perché al pari del riferimento dell'imprenditoria illuminata come l'avete definito voi che c'è a Menvi è sorta e bisogna fare anche avere un pochettino di memoria storica è stata da quel connubio di intendere il territorio l'utilizzo e la vocazione del territorio dare un'agricoltura di qualità legata a un turismo di qualità il mordefugi lo sfruttamento delle spiagge palazzi a sette piani lungo le spiagge che regano il turista di qualità perché noi non interessa avere mille persone che spendono 10 euro ce ne bastano 100 che spendono 100 euro allora cambio le parole della domanda l'otano non si recandano non lo sappiamo ma questa coalizione uscente si ripresenta alle elezioni ma certamente si si presenta perché non ha niente da abbedicare ad altri perché ha una cultura dell'amministrare misurato e poi passo alla favola delle rendite lasciate nella prima amministrazione 17 miliardi di euro erano a conti d'oggi sono 9 miliardi di lire a conti d'oggi sono circa 8 milioni però se c'è un se c'è un l'otà versione 2.0 che tutto sommato è felice perché non si ripropone la versione aggiornata 3.0 e ci sono perplessità interrogative è comunque tatticismo che sia solo un fatto di un singolo uomo o di una squadra beh qui posso intervenire forse non è così però insomma parliamo di un'otà ero fuori classe però sono già un difensore che pare colpa avversaria la squadra non vince questo è d'accordo ma però l'otà ha una personalità molto speciale è chiaro è chiaro è che io non nascondo che l'otà che si aspetti come lo aspettate voi la decisione finale dell'otà credo che l'aspettino quelli che oggi hanno preferito non venire io sono convinto di una cosa che se l'otà deciderà di non fare la versione 3.0 qualcuno in maggioranza e dirà ah finalmente tu pensi no non c'è questo non c'è non c'è questo presidente qual è questo pensiero la sua opinione l'otà che cosa fa state aspettando tutti l'otà e quali sono i motivi lei dirà ma perché non glielo chiede a lui d'accordo abbiamo fatto una bella puntata con la mia carissima collega Maria Genuardi della sua trasmissione l'ospite in cui l'otà giustamente da abile politico è anche affabulatore ha detto e non ha detto però rimane il fatto che è importante è un interrogativo politicamente importante la comunità è chiaro che se lo domanda poi c'è questo fenomeno un po' Filippo che ormai ha preso piede di sindaci uscenti che in molti comuni anche a Menfi nel recentissimo passato poi hanno preferito non ripresentarsi alle elezioni ma ci ho detto è fatto anche la differenza rispetto all'otà che il sindaco già l'aveva fatto lo sta rifacendo qual è la sensazione di Vito Clemente ma non è una sensazione c'è una discussione in atto in cui ovviamente ci sono legittime ambizioni da parte di giovani di persone nuove che vogliono spendere che vogliono mettere a futto il loro entusiasmo è certo praticamente che se Enzo Lotà decidesse di ricandidarsi chi di noi può dire non è l'uomo giusto non è la persona giusta è chiaro che subentrano anche degli aspetti personali cui nessuno di noi ovviamente può entrare stiamo parlando di una persona praticamente che è anche in pensione non so se può decidere nel proprio io nel proprio interno di decidere di godersi rischiamo di lasciarci andare in congetture non lo so io questo non lo so lo sto dicendo quindi non mi sembra neanche corregge sono anche aspetti personali da un punto di vista politico mentre dall'altra parte ci può essere un tentativo di nuovo che voi sappiate di Ardizzone o di Viviani pare che ci sia questo ticket questo è quello che si dice quelle famose indiscrezioni che lei tra cui quella di chicca planeta quelle famose indiscrezioni che girano in città io credo che proprio perché è stata cambiata la legge elettorale fino alla notte del 15 maggio per la presentazione della lista del 16 maggio può accadere di tutto e il contrario di tutto comunque voi vi candidate al consiglio comunale no? può essere anche di noi può anche essere di decidere anche noi di passare la stessa così giovani è una discussione di partire io guardo da agrigentino e da giornalista guardo con molta attenzione a quello che succede a Menti perché non lo considero un fatto isolato scontato è un fatto importante tanto più che io ragiono io naturalmente ritengo che sia importante ragionare in termini di territoria di territorialità che è un po' il principio che ispirò Enzo Lotà quando si candidò nel 2001 al Parlamento Nazionale con Democrazia Europea le cose ecco quella fu una sliding door no? chissà come sarebbe andata la storia di questo territorio certo che sì però produsse a loro un altro deputato certo non lui quindi il territorio comunque fu rappresentato dalla democrazia proletaria dalla democrazia europea molto probabilmente un Lotà versione 1.0 avrebbe dato impulso maggiore versione democrazia europea mettiamola così versione democrazia europea avrebbe dato D.E. avrebbe dato un impulso maggiore al territorio su questo non ho dubbi ma io sono un impulso maggiore siccome è affascinante questi spunti che vanno al di là del coinvolgimento del singolo paese del campanilismo e di quant'altro è una riflessione molto importante che si deve fare anche sugli strumenti di programmazione nazionale spese volte noi ci dimentichiamo che c'è stato in quel periodo i contratti di programma i contratti d'aria i patti per l'agricoltura i patti territoriali erano strumenti di programmazione che permettevano l'evoluzione di un territorio maturo e pronto a ricercare ecco il discorso di Pocanzi di creare attorno alla Sette Soli poi le cantinette che si sono create con le nicche di qualità di produzione che fanno e fare sistema e fare rete sono nati in funzione di quella programmazione di carattere nazionale sfruttarlo con gli strumenti allora vorrei chiedere a Bonfiglio che lei sappia la domanda gliela devo fare tanto lo so che non caverò un ragno dal buco che lei sappia il candidato del Movimento 5 Stelle potrebbe essere Argiroffi di nuovo come 5 anni fa oppure ci sono altre come diceva il Presidente del Consiglio sono tutti nomi che si fanno non mi sento di dire di dire un nominativo perché sono d'accordo per i motivi che abbiamo detto questa sera ognuno cerca e aspetta le mosse le mosse degli altri io quello che le posso dire e confermare è che avremo un candidato che si sta lavorando per il candidato che si sta lavorando per la lista che si sta lavorando per il programma e io mi auguro voglio ritornare se mi permette sull'argomento che non si parli non si continui a parlare da qui al 15 maggio solo di candidature ma si incomincia a parlare e sempre di più invece di programmi di idee io insisto già nei documenti i prodotti la continuità c'è un documento che il piano regolato poc'anzi ne ho fatto cenno che c'è un fatto culturale di gestione del territorio questo è un programma che va verso il futuro che non ristagna non assicura rendite a chi che sia chi ha un appezzamento di terreno il territorio è tutto aperto agli insediamenti infrastrutturali e quindi sarebbe opportuno io torno all'argomento di impegnarci questa sera poteva essere anche un'occasione per tante a ragionare a ragionare a ragionare di questo quale idea si vuole avere del territorio ma non solo per per la gestione dei rifiuti ma di qualcosa che possa effettivamente dare quella marcia in più al territorio e io insisto sull'argomento e se mi permette voglio tornare sull'argomento turismo perché è vero che in questi 24 anni si è investito molto sia con gli strumenti urbanistici sia anche con dal punto di vista culturale perché credo che nei menvitani è entrata nell'ottica quella della possibilità che il turismo per noi può essere una possibilità concreta di lavoro però quello che la politica dovrebbe fare a parere mio è che fino ad ora non ha fatto è quella di gestire bene al meglio le potenzialità del territorio vede a menvi per i motivi ormai 50 anni fa del terremoto del terremoto del 68 abbiamo potranno confermare una presenza edilizia molto ma molto superiore a quelle che sono le nostre necessità e non parlo guardi solo del centro cittadino ma parlo anche delle campagne perché io mi ricordo quando ero piccolino tantissime magazzine tantissime case coloniche che sono state costruite e che ora sta dicendo abbiamo già dato sul piano edificatorio no? esatto questa è la conclusione quello che dobbiamo fare ecco quello che dobbiamo fare invece è organizzare vediamo la conclusione la do al mio amico Filippo sulla aspetta Clemente sì no io si è parlato tanto di servizi il fatto che Menfi comunque chiamiamolo il fiore all'occhiello sulla gestione di determinati servizi l'assessore romano parlava di percentuale di rifiuti noi non dobbiamo dimenticare che Menfi risulta il baluardo contro la privatizzazione dell'acqua sin dai tempi memori cioè sin da quando nel 1999 è stata recepita legge galli in Sicilia e se oggi e se oggi questo per quanto ci riguarda è un fiore all'occhiello è un momento di di confronto che certamente è un'altra cosa che abbiamo smentito nei fatti il sindaco del comune che non ha consegnato le reti riesca a farsi eleggere il presidente della donna l'ambito credo che sia il massimo anche lì c'è una profonda differenza che non dobbiamo che non dobbiamo dimenticare Menfi aveva la gestione dell'acqua Sciacca non ha mai avuto la gestione dell'acqua perché aveva questa erozione che abbiamo dimenticato che è l'EAS ritornando alla fase conclusiva prettamente politica mi sono reso conto che rifacendomi il risultato del 4 marzo che un ragionamento di gruppi vari e controgruppi o aspirazione di un gruppo che comunque fa parte della maggioranza però vuole volare da solo rispetto alla novità del prossimo giorno che segue quella del 4 marzo scorso con il sistema che hanno chi prende più voti vince io credo che la logica vuole che ci siano due poli dove un polo è un'opposizione in partenza di protesta di rabbia di proposta perché ormai sono diventati democristiani a tutti gli effetti e non è una parola d'offesa assolutamente perché quella logica e quel modo di ragionare rimane immutabile e insostituibile loro non esagerare io parlo di politica con la P maiuscola quando c'erano statisti importanti nella democrazia cristiana il partito comunista eccetera eccetera quindi possiamo anche aprire una discussione un'altra volta e la 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 sfida vera e l'incognita che poi è incognita relativa sono loro come Movimento 5 Stelle quindi io ci penserei otto volte prima di mettere in primo piano ambizione personale e farei sì un discorso di squadra in maniera tale che andiamo alle elezioni con due poli perché lì si gioca la partita se è un'immagina con gruppi e sottogruppe di partecipare mi pare un pochettino più difficile il percorso vi ringrazio anche per lo stile che abbiamo avete avuto nella partecipazione a questa nostra trasmissione l'appuntamento con Vespera la prossima settimana che è un'immagina che è un'immagina che è un'immagina